Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Aladino, Ercole, Sigmene qua e io tipo mi ero chiuso di là con una ragazza e c'avevo i telecomandi dell'aria condizionata Rumena di Roma Rumena di Roma, esatto, Rumena di Roma Ed è subito free Paolo Fregna, esatto, streamer il rumeno numero 1 d'Italia, grande E scusami un piccolo saluto a Paolo Fregna che ci ha abbandonato Una settimana, due In questo fine live faccio vedere la mia watchlist anime e la gente si sorprende per quante anime ci sono E pensa a quanto faccia schifo la mia vita Va bene Ma dove ti resegni la tua watchlist di anime? No, su alcuni siti puoi fare la watchlist Ma, assurdo Tipo su TV... com'è che si chiamava? Tipo non lo so, sti cazzi Andiamo alla Five Lions Ma io uso la watchlist Ma io uso la watchlist Ok, adesso Ma vada via il Q 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 Vediamo un po' ste chat, sti animali che mi dicono di ricaricare non se lo devono permettere, figa Di casa? Sì Sì bro Ma tipo c'ho dei colpi di fulmine assurdi Però durano poi comunque Sì durano poco poi magari Un paio dove? Ah, ci sta Niente bro Ce l'ha ridati eh Cioè comunque c'è ridato 80 euro bro di quelli che abbiamo, cioè i 100 che abbiamo giocato Ci fa galleggiare comunque nonostante tutto Ma com'era ieri che parlavo di voi? La possibilità sociale nel fare in qualche modo trasmettere un concetto che è quello di dire Cazzo io però sai mi sono realizzato Anche se ti posso dire la verità Secondo me tu sei una persona molto debole E anche molto sola Perché si vede nel tuo atteggiamento Tu hai bisogno di far vedere la Lamborghini perché se no in qualche modo Ok, qual è la domanda in tutto questo? No, la mia non è una domanda Io a una persona come te non ho niente da chiedere Nel senso capisci bene che io al tavolo con te non mi ci siederei neanche per un bicchiere d'acqua frizzata Si sta a pagare È buono Oh! Oh! Cazzo! No! No bro, porca No! Oddio non fermarti Madonna, puttana frate Ma che cazzo me stai a prendere Mecchia bro, la chiamata ce l'ho avuta pure oggi eh Frate tu sei un artista, tu sei un artista del gambling bro Porco zio Gabrone fa il ventriloco Può essere Bro, vai Bro, vai Bro, è esplosa Non ho fatto nulla Sono tutto bagnato Ma che cazzo Prima stai esplodendo la bottiglia Stai esplodendo la bottiglia No, io non la voglio Non la voglio Tieni la Prova Prova Sono tutto bagnato Dai dammi un crazzitime Un crazzitime Questo è crazzitime No Deve frenare adesso E' dell'occhio Del Lutos L'occhio Del Lutos È un rollercoaster piccolo Un rollercoaster Cazzo Ho avuto un periodo in cui cercavo di vendere siti web all'azienda Ho avuto un periodo in cui cercavo di fare trading Ho provato tante cose che mi hanno provato a zero risultati La cosa La prima cosa che mi ha fatto fare i soldi era semplicemente Mi sono fatto assumere da un'azienda ai tempi Che vendeva dei servizi E di conseguenza io vendevo per quell'azienda lì Quindi mi ero fatto assumere da quell'azienda Vendevo questi servizi su commissione E guadagnavo delle commissioni nette Il bello di quello è che all'inizio sono di fatto soldi netti Perché Ho tempo solo per me Sorridi a me Sì Scusami adesso mi è entrata in testa Perché è bella come canzone È oriché Funziona Guarda che lei c'ha il diadroggiante Eh beh Cazzo il cazzo Gli hanno scritto delle linee melodiche Tutto quanto VVS porca madonna Perché? Non lo so Ho cercato VVS VVS Non è che l'hai già cercato tu Te lo giuro no Adesso cerco anche io su TikTok VVS Se mi esce VVS porca madonna È incredibile Ma lo sto cercando? No Allora calma Calma Oh ma li sentite ragazzi Ci sentiamo Thomas Tu ci senti C'è il bianco di Google negli occhi Bianco negli occhi di Google Non ci senti Cioè ma ragazzi secondo voi Io a 30 anni Lui continua a parlare No non ci sentiamo Tempo con uno così Vai Ben Gabri ti voglio Buonanotte Dai c'è domani Da quant'è che sei iscritto E l'altro è scappato Ehm Ok Da quant'è che sei iscritto Ma penso anche lui è uguale No ci senti Vai googlatelo un attimo Ti sentiamo Ma esci e rientra Vabbè dai Ok Ragazzi questo Mi ha sentito Quando Quando Mi ha sentito Ma mi ha sentito Ragazzi No aspetta calma Ma mi ha sentito Dato un attimo su Google Ragazzi scusatemi Scusatelo No scusatemi Scusatelo Prego prego Ma mi ha sentito Ok Bene Però non lo so Mentre cucinava Con quelle manine Me la immaginavo No Ma che cazzo stai a dire bro Però io mi sono secato Su tutto Su tutto proprio Cioè io Mi sono fatto C'è un periodo Veramente pure sugli oggetti Che riuscivo a secarmi Pensavo a una bottiglia Non lo so Ma che cazzo significa bro Sì bro Un periodo Un periodo tipo delle medie No Che stavo tutto lì a 2000 Su qualsiasi cosa bro Non so Le professoresse Le mamme Ok Quali sono le cose non etiche Fai l'elenco Bro Le cose non etiche sono Che tu mostrando Macchine di lusso Ambienti di lusso Eccetera E andando a proporre Un prodotto sul mercato Fa sì che la gente Pensa Che in questo modo Possa arrivare A risultati come i tuoi In poco tempo Ci sono persone Che sono arrivate A risultati come i miei E dico in ogni live Se tu avessi visto Quelli che sono i miei contenuti Ah ci sono In ogni contenuto In cui vado a vendere In ogni contenuto su YouTube Dico che per far E poi possiamo procedere All'acquisto Ci siamo daddi Vai 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 No adesso Dai Che ha fatto Ma mi ruba Mi volta la Ma tu non devi fumare Ti fa male No tu non devi fumare Ti fa male Andiamo bro E non lo so Che vogliamo andare Sempre Ah sì Ci sta tipo Quella delle Come cazzo Si chiama Scrivi bonanza Che ci stanno Tipo quelle delle ciambelline Colorate Tutte Le caramelle La sweet bonanza bro No 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 Si chiama No no Non è quella È un'altra Scrivi bonanza Ti faccio vedere qual è Che carina Ci stanno i bonus Tutti Si chiama Candy Candy waste Bonanza Vai Sì sì Mozzarelle mangia di stasera Però perché domani Non lo so più buono Va bene Ciao ragazzi Ciao Ciao Buona giocata Ciao 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 Ma cosa ti amo Ma chi ha detto ti amo Ma vi svegliate Ah si sembrava Aspetta aspetta Non l'ho ancora vista Ah Interessante Molto interessante Mmm 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 Mmm